Musica Buonasera, bentrovati anche per la pagina sportiva su Teletruria. Finisce l'avventura di Paolo Indiani sulla panchina Amaranto. Nel pomeriggio la notizia ufficiale della separazione. Paolo Indiani lascia l'Arezzo. La rescissione del contratto è stata comunicata nel pomeriggio. Si è chiusa quindi l'avventura del tecnico di Certaldo sulla panchina Amaranto. Erano ormai diversi giorni che la notizia aspettava solo di essere ufficializzata, ma si era capito dopo l'uscita di scena di Giovannini che il destino di Indiani era segnato. Non è da escludere che il tecnico di Certaldo raggiunga Paolo Giovannini, il quale nel caso in cui il Livorno cambi l'azionista di maggioranza avrebbe già un accordo di massima con la nuova proprietà. Paolo Indiani dunque saluta, il bilancio è tutto a suo favore. Una promozione dalla DLAC conquistata con pieno merito e una salvezza anticipata in C, dove la squadra ottenuta la permanenza in categoria si è spinta fino al primo turno dei play-off. Merita una stretta di mano e un grazie cordiale. Si volta dunque pagina. Aniello Cutolo di fatto diventa l'uomo mercato, avrà un contratto di tre anni. Il presidente Guglielmo Manzo ringrazia Indiani per il lavoro di questi due anni e per i risultati sportivi che insieme all'Arezzo ha ottenuto. Sarà adesso il direttore sportivo Nello Cutolo, afferma Manzo, che abbiamo legato all'Arezzo con un progetto e un contratto triennale, a indicare la possibile strada da seguire. Proprio Nello Cutolo chiarisce alcuni aspetti della scelta. Il mio intento, ha detto Cutolo, sarebbe stato quello di proseguire il percorso con mister Indiani, legato all'Arezzo da un anno di contratto, ma non si sono create le condizioni proprio in merito alla durata del rapporto, sulla quale il mister aveva delle richieste che non ho ritenuto ovviamente assieme al presidente di poter accettare. Voglio però sottolineare, conclude, il rapporto di condivisione e collaborazione che ho avuto con lui e il suo staff in questi due anni, sicuramente molto positivi. Play-off Serie C, quarti di finale dopo i risultati dell'ultimo turno, è stato definito il cartellone delle gare di domani. Nelle gare di ritorno del primo turno nazionale dei play-off di Serie C, pronostico della vigilia rispettato in quattro campi su cinque, mentre l'impresa è quella della Juventus Next Generation che sbanca Caserta e passa al turno successivo. Gli altri risultati hanno rispettato le previsioni, tenuto conto anche dei parziali dell'andata. Nel prossimo turno entrano in scena le tre squadre che hanno chiuso i gironi A, B e C al secondo posto, vale a dire Padova, Torres e Avellino, teste di Serie insieme con la Carrarese, la squadra che si è piazzata meglio tra quelle provenienti dal turno prima. Si giocano gare di andata e ritorno, in caso di parità niente supplementari, ma passa il turno la testa di Serie che gioca il match di ritorno in casa. Gare di andata Juventus Next Generation Carrarese, Catania-Avellino, Benevento-Torres e Vicenza-Padova. Le quattro società vincitrici del secondo turno play-off nazionale partecipano alla fase cosiddetta Final Four. Playout di Serie C si salva. La BIS Pesaro a farne le spese è la Re Canatese. Chi dice che una finale non riservi emozioni per la tensione legata alla posta in palio non immaginava quello che sarebbe accaduto allo stadio di Pesaro. Una partita pirotecnica per i gol, le emozioni, i ribaltamenti, i colpi di scena. I biancorossi ottengono la salvezza all'ultimo tuffo dopo essere stati tre volte in vantaggio e avere subito altrettante rimonte. La Re Canatese dal canto suo saluta la categoria, ma resta l'immagine di una squadra che ha lottato fino in fondo per ottenere il traguardo. Vediamo insieme le sette reti che hanno deciso l'incontro. Vi spesero in vantaggio dopo un'azione corale. Tiro a giro di Pucciarelli rintuzzato, Rossetti serve comunque Nicastro che gira a rete. Il pari arriva sul rigore, fallo di Rossoni su Carpani, l'arbitro non ha dubbi. Sbaffo trasforma. Torna in vantaggio la vispesa, Romattioli scodella in area per Nicastro che serve Pucciarelli. È il gol del 2-1. Nella ripresa la vispesa ora arretra il suo baricentro, ma subisce subito un altro rigore quando Longobardi crossa sul braccio di D'Apozzo. Sbaffo fa 2-2. I biancorossi si ripresentano in avanti con determinazione. Carlson spara in porta, Meli respinge, Mattioli mette in porta il suo secondo tentativo. Cross di Allievi e Sbaffo dalla parte opposta di testa ruba il tempo a Zagnoni, segnando il 3-3. Nel finale, con due squadre ormai al limite delle energie, Pucciarelli chiude partita e campionato, raccogliendo un cross di Rossetti dopo un primo tiro di Zagnoni con una ribattuta vincente. Al fischio finale il pubblico dello Stadio Benelli si riversa in campo e la festa dura fino a notte fonda. Play-off di serie di Grosseto travolge il Tau Alto Pascio. La squadra biancorossa, vincitrice del girone play-off, spera in un possibile ripescaggio. La vittoria non dà vantaggi particolari nella corsa alla promozione in C, ma pone il Grosseto nella posizione migliore per un eventuale ripescaggio. La squadra biancorossa ha superato largamente il Tau Alto Pascio e si congeda nel modo migliore dai suoi tifosi. È ancora presto per dire se il Grosseto farà compagnia alla Pianese, che ha vinto il girone, ma la vittoria contro il Tau autorizza un minimo di speranza. La partita dello Zecchini ha avuto un andamento lineare a tutto vantaggio dei padroni di casa. La squadra di Malotti ha avuto il pallino del gioco in mano per 90 minuti. Apre le segnature il solito Marzierli al 36esimo, confermandosi attaccante di razza, in grado di aprire le partite. Nella ripresa i Maremmani arrotondano il punteggio. Nella parte iniziale della seconda frazione va a segno Sacchini. Il Tau, che non riesce a organizzare una reazione pericolosa, ha ormai il destino segnato e Sacchini al 38esimo arrotonda il punteggio fissandolo sul 3-0 finale. La corsa della San Sovino si ferma alla finale della fase del girone play-off contro il Grassina. I fiorentini si impongono 0-2 grazie a due reti nella ripresa. Rammarico per la San Sovino che nel primo tempo ha sprecato almeno due buone opportunità. In avvio di ripresa Tom Berli porta in vantaggio il Grassina. L'inerzia della partita è a vantaggio dei fiorentini che raddoppiano in pieno recupero con un gol di Simoni. Finisce qui la stagione della San Sovino mentre il Grassina approda la Final Four con Antella 99, San Miniato Basso e Real Cerretese. Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto festeggia sui campi del Foro Italico di Roma. La prima edizione degli internazionali d'Italia Under 16 torneo inserito nel circuito Tennis Europe ha registrato una doppietta del giovane tennista nato nel 2008 e che ha conquistato il titolo nel singolo e nel doppio. Ciurnelli sceso in campo con i colori del Team Italia ha raggiunto il successo al termine di una settimana costellata da nove successi in nove incontri disputati. La squadra della sezione di paracadutismo sportivo del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania ha vinto il campionato italiano di precisione in atterraggio 2024 che si è svolto nella fine settimana a Nettuno. Comandata dal maresciallo capo Daniele Bianchi ne fanno parte il brigadere capo Davide Girelli già pluricampione italiano l'ha puntato scelto Pizzicone Marco due volte campione italiano l'ha puntato scelto Pierfrancesco Vanni e il vicebrigadiere Claudio Dascagno. Vanni è a Foiano della Chiana attivato all'attivo 4.500 lanci ed è paracadutista militare dal 2009. Ed è tutto anche per la pagina sportiva grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con i nostri programmi arrivederci Grazie a tutti i nostri programmi